accogliamo all'angolo blu questa atleta ha 20 anni viene da fiumicino e sordisce nelle MMA per la fiumicino team entra Alessio Alfonsi Alessio Alfonsi con un record di 0 vittorie e una sconfitta per il Master Club di Roma entra Danilo Di Valla anche per questo match sono previsti tre round a tre minuti arbitra Andrea Bruni Grazie 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 Scendi, scendi. Vai, puoi. Vieni con là, vieni con là, portalo a sempre. Vieni con il braccio sinistro, larga le gambe. Attenta al posto, attenta al posto. Bravo, attenta al posto. Vieni con la gamba a te, vieni con la gamba a te. Vieni con la sua palanca. Vieni con la tua gamba. Vai, vai, vai! Vieni con la gamba. Alla è via, vai. E' un po' di sci. Vieni con la gamba. Vieni con la gamba. Vai, vai! Vieni con la gamba. Vieni con la gamba. Bravo! Sì. Vieni con la gamba. Non è tanto al gamba. Grazie a tutti. Grazie a tutti.